Tornano a riaccendersi i riflettori sull'arena BCC di Fano per il secondo appuntamento della rassegna dialettale Teatro Sotto le Stelle, che vedrà andare in scena la compagnia Iarciaplatte con due storici spettacoli. Promemoria fissato dunque a venerdì 15 per quella che è la seconda data in calendario di un ricco programma organizzato dalla Polisportiva Tre Ponti, in collaborazione con il Comune, la Proloco di Fano e con la Regione Marche. Quest'anno per la rassegna dialettale di Tre Ponti la nostra è una novità in assoluto, perché il gruppo è molto giovane, giovane di età e giovane di formazione, perché sono nati nel 2019, poi c'è stata la pausa del Covid, quest'anno abbiamo ripreso la nostra attività e per la prima volta saremo qui a Tre Ponti, e quindi per noi è un grande traguardo essere qua, in mezzo ai grandi, perché l'età media dei nostri attori è sui 16, 17, 18 anni. Noi abbiamo stravolto un po' tutto, non facciamo una commedia sola, ma ne facciamo due. La prima è le presentazioni, che sono un po' così datate, sono di Francesco Iacucci, tutte e due, uno signore che scrive le commedie qui di Fano, e rappresenta un po' quelle che erano le presentazioni delle due famiglie, dei due fidanzati, cioè si riunivano in una casa per fare conoscenza, e poi la conoscenza è stata un po' troppo conoscenza, e per capire come va a finire dovrete venire il 15 di luglio, che è un venerdì qui a Tre Ponti. L'altra commedia è La Bendizione, la bendizione qual è? È quella che il prete viene da prima di Pasqua, va in tutte le case, con il chiarichetto e porta la benedizione, e purtroppo gli capita di andare un po' in tutte le case, c'è chi lo accoglie benevolmente e c'è chi invece lo accoglie un po' meno benevolmente, e anche qui ne vedremo delle belle.